La Deluxe ha creato queste uova colorate, ripeto non so quello che mangiano ma è la razza delle galline e la creante ha fatto un design straordinario, guardate che roba, addirittura l'ha presentata come gioielli di shop art e questa è una cosa bellissima e poi io penso che loro oggi stanno veramente imponendosi sul mercato come azienda leader delle uova nel mondo. Secondo lei potrebbe diventare nelle cucine dei grandi chef, quindi nella sua cucina ma anche nelle tavole in cui un italiano, qualora voglia allestire una cena un po' ricercata, un po' sofisticata, potrebbero le uova diventare dei protagonisti come una volta lui era il caviale, il filetto, la carne rossa. Guardate che cosa facciamo con le uova, addirittura le mangiamo crude, però queste le abbiamo messo un sale maldon, abbiamo messo tartufo nero e con un bicchierino di vodka per pulirvi il luogo. La sua ricetta preferita con l'uovo? Anche la frittata, ma la frittata un cuoco oggi di questi moderni avrebbero detto banale, invece noi abbiamo fatto dei macaroni, dei raviori di carne dentro l'uovo, cioè la meraviglia e delle meraviglie. Grazie Chef. Prego. Grazie a tutti. Grazie a tutti.